Quasi 20.000 euro di sanzioni per guida con documenti falsi e con la patente revocata, per il trasporto non a norma di rifiuti edili, per bivacco non autorizzato e consumo di alcol sul suolo pubblico, ma anche per irregolarità in un cantiere edile. E' questo il bilancio della settimana di attività a Montecchio Maggiore della Polizia Locale dei Castelli, conclusa con il rimpatrio di un pregiudicato irregolare in Italia con precedenti denunce per violenze familiari e spaccio. Le operazioni degli agenti, coordinati dal comandante Alessandro Rigolon, sono state avviate martedì dal monitoraggio interforse su tutto il territorio cittadino, con pattuglie impegnate nel controllo di locali, parchi pubblici e delle principali arterie stradali, dove due automobilisti sono stati multati per 5.500 euro ciascuno e le auto sottoposte al fermo amministrativo di tre mesi. Un 29enne straniero circolava con una patente polacca falsificata, mentre ad un 30 settenne era stata revocata la licenza di guida. Sono stati svolti diversi controlli su parchi, piazze, punti sensibili della città ed è stato poi definitivamente allontanato un soggetto straniero che è particolarmente problematico. Questi importanti risultati mettono in evidenza ancora una volta la fondamentale importanza della collaborazione tra diverse forze di polizia ed organi istituzionali, a vantaggio evidentemente della sicurezza e della legalità del territorio.